Con la visita sulla Torre Medicea di Santo Stefano di Sessanio, dei sindaci dei borghi più belli d'Italia, 25 abruzzesi e 4 molisani, è partito il calendario degli eventi di avvicinamento al Festival Nazionale dei borghi più belli d'Italia. Un lavoro di squadra che ha riportato la bandiera dei borghi in Abruzzo. Siamo orgogliosi di questo risultato straordinario portato in Abruzzo nel mese di settembre scorso. Esattamente eravamo al Vittoriale degli Italiani quando ci è stato comunicato ufficialmente che l'Abruzzo avrebbe ospitato il Festival Nazionale 2022. Da lì in poi abbiamo ragionato per come immaginare questo evento nazionale e coinvolgere i territori che noi rappresentiamo, i 25 borghi certificati per l'Abruzzo e i 4 per il Molise. Allora abbiamo deciso di programmare, a partire da oggi, proprio la prima tappa qui a Santo Stefano di Sessanio, una serie di tappe di avvicinamento e ne avremo ancora di fronte 26. Quindi è un'opportunità che vogliamo cogliere come momento di promozione territoriale, turistico, anche dal punto di vista enogastronomico, culturale, artistico, storiografico. Insomma ci saranno 26 tappe bellissime e che riguarderanno ciascun borgo certificato. Un percorso sostenuto con entusiasmo anche dalla regione Abruzzo. Il fatto di portare in Abruzzo il Festival Nazionale dei Borghi Più Bella Italia è una grandissima occasione per accendere un riflettore importante, delle luci importanti su questa parte dell'Abruzzo, su questa parte del piccolo Abruzzo, bello, genuino, rimasto intatto negli anni, scalfito soltanto dalle tragedie naturali che adesso sta tornando a rifulgere. La regione Abruzzo sta mettendo tutto se stesso, tutta se stesso, accanto a questa organizzazione, accanto ai piccoli borghi proprio per approfittare di questo evento in maniera concreta, con un sostegno concreto per poter dare forza e portare attraverso questi eventi un indotto socio-economico. Madrina dell'evento Benedetta Rinaldi, abruzzese di origine e prima fan anche attraverso la TV nazionale delle bellezze d'Abruzzo. La bellezza è un qualcosa di cui abbiamo estremamente bisogno. Siamo stati chiusi in casa per un anno, abbiamo capito che forse tutte quelle occasioni in cui non ci siamo messi in macchina per andare a vedere qualcosa di diverso rispetto a casa nostra con gli amici che magari, vabbè, li vediamo un altro giorno. Ecco, adesso abbiamo capito l'importanza del qui, del presente. Ecco, prendere la macchina e venire a vedere questa torre con le scoperte che sono state fatte dopo il terremoto, questo paesino meraviglioso che sembra un presepe. E uno rimane a bocca aperta e dice ma davvero esiste? Ma davvero? E ti viene voglia di raccontarlo? Ecco, quindi io faccio semplicemente questo, aderisco per poter raccontare e poter dare risalto alla bellezza che non sappiamo invece c'è.